I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli hanno eseguito un'ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord su richiesta dalla locale procura della Repubblica di Napoli Nord applicativa della misura cartellare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a carico di sette persone gravemente iniziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere e rapina gravata dell'uso di armi commessi con la tecnica del cosiddetto filo inverso. Tale particolare modalità delittuosa prevedeva una fase preliminare di osservazione in cui venivano individuati imprenditori, commercianti o agenti di commercio, una fase successiva svolta dal cosiddetto filatore di pedinamento e studio preventivo delle abitudini della potenziale vittima per calendarizzare i giorni in cui veniva abitualmente effettuato il versamento di denaro contante, una fase esecutiva di avvicinamento che consisteva fin fine nell'aggredire la vittima con azioni repentine e con l'uso di armi da fuoco prima che effettuasse il deposito. Le complesse ed articolate intagini dirette dalla Procura di Napoli Nord e delegati al nucleo investigativo Carabinieri di Napoli hanno consentito di raccogliere purimi e gravi elementi indiziali all'integrazione e rafforzamento del solido quadro approbatorio già delineatosi con l'applicazione delle misure cautelari custodiali già eseguite nel mese di maggio 2023 nei confronti di sei dei soggetti indagati al fine così di interrompere l'azione criminosa. Nel complesso l'attività investigativa condotta da ottobre 2022 ad agosto 2023 mediante una prolungata e qualificata attività tecnica e con numerosi servizi di osservazione e pedinamento al riscontro consentiva in definitiva di disverare e disarticolare un pericoloso sodalizio criminale composto da sei persone e dedito alla commissione di una serie indeterminata di rapine con la tecnica del filo inverso per un profitto complessivo di 131 mila euro nonché di individuare altri due complici gravemente indiziati di aver concorso in ulteriori due rapine. Venivano individuati inoltre la base operativa del gruppo criminale e rispettivi componenti in grado anche di pianificare una serie di rapine da eseguire con la tecnica della rete o della spaccata e danni di istituti di credito in provincia di Napoli e Parma nonché in Belgio con la collaborazione in quest'ultimo caso di un basista in Romania e l'acquisto da un laboratorio tetrale di quattro speciali maschere in silicone del valore di circa 500 euro ciascuna per il successivo sofisticato travisamento. Tra i mezzi utilizzati dal sodalizio smantellato dagli inquirenti vi erano altresì telefoni cellulari dedicati, schede intestate a soggetti stranieri in insistenti, due pistole di colore nero tipo replica, un giubbotto antiproiettile e l'undici tra motocicli e autovetture. Infine è stato possibile raccogliere gravi indizi di reato a carico di ulteriori due soggetti per la commissione di una rapina con la tecnica del filo inverso avvenuta il 6 ottobre 2022 ad Arzano ai danni del gestore di una tabaccheria per un profitto complessivo di 20.000 euro e di tre tentativi di rapina commessi con un'analogo e modalità tra febbraio e marzo 2023 nel comune di Pozzuoli. Sulla scorta delle evidenze investigative raccolte nonché delle denunce e delle sommare informazioni acquisite dalle persone offese si è accertato che per assicurarsi il conseguimento dell'illegito profitto gli indagati portavano illegalmente con sé armi utilizzandola anche in pieno aggiorno per infrangere i finestrini dell'autovettura delle vittime ferme nel traffico e in occasione anche per esplodere dei colpi di arma da fuoco a scopo intimidatorio. Durante l'esecuzione odierna sono stati individuati 6 dei 7 soggetti destinatari dell'ordinanza custodiale mentre uno di essi risulta allo stato irreperibile. Sono tuttora in corso le ricerche finalizzate a suo rintraccio. Grazie a tutti.